Anno 2020. Un virus che in pochi mesi ha contagiato tutto il pianeta ha cambiato radicalmente la nostra vita sociale. A Roma pure un terremoto. Mancano solo uno tsunami, le cavallette e... Ah, ok. Ma è cambiata soprattutto una cosuccia che ha destabilizzato milioni di studenti. La maturità. Benvenuti su Maturità 2020, effetti collaterali. Dov'è la sua mascherina? Non sa che è obbligatoria. Ma il Covid non esiste. Ma cosa sta dicendo? Ma sì, è solo una trovata pubblicitaria per vendere più guanti e mascherine. Se ne vada immediatamente. Incredibile. Ma cosa sta facendo? Guardi che l'aula è stata già igienizzata. Eh, non si sa mai. Ok, adesso possiamo cominciare. Una. Prego. Per metterla a suo agio le ricordo che il candidato può anche abbassare la mascherina. Dato che noi commissari siamo tutti a due metri di distanza. Se lo scordi. Eccoci qua. Allora, mi esponga il suo... No, un secondo solo che deve entrare la mia famiglia. Ma come la sua famiglia? Sia tranquillo, sono pochissime persone. Vieni, vieni mamma. Dove mi metto? Mettili lì. Un bocca di lupo. Chiamo anche nonno. Come nonno, ma... Sì. Dove le metto le lasagne? Mettilo lì. Ma so bello sto sfugnato. Ma è vietato. Può portare una sola persona e con la mascherina per giunta. Se ne vada immediatamente. Ma se è già finito sto maxi orale? Ma aspettavo peggio. Grazie, arrivederci. Piacere, si metta pure comodo. Lei è... Oddio, questa non la so. Ma che sta dicendo? Le ho solo chiesto il suo nome. Non mi ricordo. Chiamate qualcuno. Ok, allora, io inizierei con... Fornisca l'autodichiarazione che attesta che lei non ha la febbre superiore a 37,5 e che non è stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Ma ho solo preso freddo. Ma non è il covid. Senta, se ne vada e stia attento a non toccare nulla. Mi avete imborciato? Ma no, deve recuperare l'esame. Quindi mi richiamate voi, ok? Ci conto? Mi richiamate? E quindi... Ma... Da quant'è che sto parlando? Da circa 10 minuti, ma cosa sta facendo? Ah, ok. Vabbè, io vado. Tanto il 60 ce l'abbiamo, no? Ma che impertidente. Perfetto, arrivederci, tante care cose. Autodichiarazione, prego. Ehm, sì, certo, un secondo solo. Allora, questa... Sta qua. Eccola. Ehm... Ma questa è data da 20 marzo. E non va bene? Direi proprio di no. Ne serve un'apposita per sostenere l'esame. Fermatelo! Mi scusi, lei non può stare qui? Ma io ho l'esame alle 12. Sono venuto qui solo per vedere l'esame dei miei amici. Ascolti, lei può entrare solo 15 minuti prima del suo esame. E sono le 9. Ehm... Facciamo finta di niente? Mmm? Adesso queste le faccio cadere qui, casualmente. E qualcuno le raccoglie. Eh? Se ne vada immediatamente. Buongiorno a tutti. Io sono pronto per il maxiorale, eh. Ma che sta dicendo? Non può farlo da casa. Deve presentarsi qui a meno che non abbia comprovati motivi. Ma gli esami non si facevano a distanza con la tesina? Ma quelli sono gli esami di terza media! Ah! No, ma stai tranquillo. La maturità quest'anno non si fa. L'ho letto soltanto lamaturitanonsifa.com Cari ragazzi, controllate sempre le fonti delle notizie. Leggete gli articoli per intero e fate attenzione alla data di pubblicazione. È fondamentale sempre essere aggiornati. Consultare notizie sui siti ufficiali, diffidando da messaggi o news che non siano direttamente verificabili attraverso la fonte di provenienza. E anche se questa maturità sarà diversa dalle precedenti, noi non vogliamo far mancare il nostro grande. In bocca al lupo a tutti voi.